Da poco più di un mese c'è stato il cambio alla guida dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio. Nei prossimi tre anni sarà a capo dell'ente il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. L'obiettivo è quello di lavorare nel solco della continuità con il suo predecessore Andrea Bonfanti per rafforzare l'ente e valorizzare tutto il territorio in modo omogeneo. La mia presidenza dell'Unione dei Comuni è in continuità con quella del mio predecessore Andrea Bonfanti. Quindi vogliamo proseguire un percorso virtuoso di ottimi rapporti tra tutti i comuni della Mediavalle e fare in modo che l'Unione dei Comuni sia un ente utile vicino alle persone e che possa rafforzare i servizi associati che fanno stare insieme i comuni. Quindi avere la capacità di far sì che la Mediavalle porti avanti i progetti comuni, tutti insieme, che ci sia uno sviluppo armonico di comune in comune e che nessuno rimanga indietro. Quindi l'obiettivo nostro è quello di essere forti anche rispetto agli altri enti perché stando insieme si ha una forza maggiore e poter dare delle risposte che siano più vicine alle persone, quindi risposte più facili, più semplici, più vicine alle esigenze dei singoli cittadini. Tra le priorità abbiamo quella di portare in fondo il piano strutturale sovracomunale per una visione che sia omogenea del territorio, condivisa, ma vogliamo anche rafforzare il tema del turismo, della cura del territorio per far sì che ci sia un'attenzione anche ai luoghi più disagiati, più isolati, quindi un'unione dei comuni che sia vicina alle persone.